ciao francesco car tablet per la tua ford c max e kuga arrivato ti faccio questo video dimostrativo per dimostrare lo faccio sempre che il prodotto è funzionante tutte le plastiche sono perfettamente nuove senza graffi cosa molto importante perché poi dovrai andare questa è plastica dovrai andare a fare l'esecuzione l'installatore quindi basta una minima distrazione si possono rigare questo è il supporto poi dietro c'è tutto il cablaggio io adesso ti sto facendo vedere la dimostrazione del prodotto allora questa è la home avrai gestione audio e video tramite le usb qui stiamo in audio per quanto riguarda video basta premere qui poi abbiamo varie home queste sono tutte le home che si potranno acquistare singolarmente mentre le home che diamo noi gratuite le trovi qua adesso c'è la pellicola protettiva poi andrà a togliere te queste sono le quattro home che diamo noi per dire vuoi mettere questa basta cliccare e sarai pronto ad usare anche questa home qui entri nell'app android siamo su maps google viale palmiro togliatti 600 come vedi il processore velocissimo qui siamo su youtube potrai seguire anche lo split screen adesso il touch è un po difficoltoso perché c'è la pellicola è infatti fa un po le bizze allora teniamo premuto eccoci qua bisogna avere un pochino di pazienza poi visualizzazione singola io la pellicola della lascio per questa qui che poi dovrei andare a togliere sono due pellicole una leggera e una molto pesante molto verta che sarà sotto quello poi ci pensi te quindi è normale che adesso il touch è poco poco sensibile poi abbiamo un dsp e poi abbiamo anche la funzione torniamo indietro apple carplay android auto in wifi eccola qui a secondo dello smartphone lo smartphone che hai potrai attivarla adesso io ti rimetto le home da default tema home eccola qui qui abbiamo tutti i cablaggi car tablet e mascherina io ti ringrazio lunedì di inviare la tracciabilità è tutta io ti ringrazio lunedì di metà io ti ringrazio lunedì di metà io ti ringrazio lunedì di metà